E come ogni anno, centinaia di motociclisti si sono ritrovati ai piedi del Monte Bianco per onorare la memoria di Pierlucio Tinazzi, medaglia d'oro al Valor Civile, per la quindicesima edizione del Memorial Spadino, che quest'anno si è svolta nella piazza del mercato di Courmayeur. A tutti, ovunque siano, che le strade siano belle per loro. C'era la pioggia e le strade non erano nelle condizioni migliori perché viaggia su due ruote, ma la memoria di Spadino è stata onorata, come sempre, da centinaia di motociclisti. Nonostante la frana e nonostante il maltempo, noi continuiamo a esserci. Marco Polli, presidente del coordinamento italiano motociclisti, ricorda chi era il motociclista addetto alla sicurezza del tunnel del Monte Bianco Pierlucio Tinazzi. Pierlucio Tinazzi, detto Spadino, che decise di fermarsi durante l'incendio del tunnel, pur potendo scappare con la sua moto, ma decise di restare per aiutare le persone che erano intrappolate. Purtroppo perse la vita nel tentativo di portare aiuto quando riuscirono a ritrovarlo oltre 50 ore dopo nella cella di sicurezza dove si era chiuso insieme a un automobilista francese. Quest'anno la manifestazione si è svolta a Courmayeur per non creare problemi al traffico. Il piazzale dell'ingresso del tunnel, per un insieme di motivi, ricorda molto di più Spadino, però credo che lo onoreremo comunque bene anche da qui. Centinaia i bikers arrivati dall'Italia, la Svizzera, la Francia e altre parti d'Europa. La Svizzera, il departamento 38, nella regione Ronalp. Il PNC ha fatto 130 km, tranquillo, due ore di tempo, un'ora e meia, due ore. Ginevra. La Biella, come tutti gli anni siamo qua presenti. L'ho portato anche lui quest'anno. Tra la folla c'era anche Elio Marlier. Sono responsabile della sicurezza del traforo e Spadino ha dato per noi tanto. Rappresenta, direi, tutti gli uomini della sicurezza che lavorano al traforo del Monte Bianco, che lo fanno non per lavoro ma prima di tutto per passione.